ciao amici allora grazie ariana che ci ha aperto l'epicodio delle riparazioni allora c'è un amico che scusate se non abbiamo chiuso la luce della stanza perché si rotta sia la telecamera la GX sia la lampara e quindi facciamo con una torcia una telecamera in telecamera senza raggi allora, lo vedete questo? scusate, non lo vedete perché non c'è, è scusato il libro di scelto, scusate tanto, questo è un semplice caricatore, allora c'è un amico che aveva un telefone Huawei, non so che tipo perché non mi interessa di questi telefoni ecco qua, non so che me parla questa luce, scusate, ecco qua, l'avete visto? uo' oltre a me quindi voi sapete che c'è un sb o no vedete vedete questo è un caro sb vedete questa parte che è una parte nera non si vedete è cala qui questa parte serve per infilarla nello computer oppure nello caricatore lui aveva problemi con appunto il caricatore perchè come vedete il caricatore ha anche una sua parte bianca che vedete qui dove va a incastro? queste due parti sono opposte e quindi si incastrano l'una con l'altra non so come ha combinato questo guano perchè appunto ha queste due linguette che sono lui questa linguetta dell'usb non so come l'ha fatta salire e quindi ciao ciao caricatore la stava buttando nel contratto diciamo dammela a me che cerco di aggiustarlo non solo una segnalare le operazioni ma uno della blu che è bravo bravissimo e quindi l'abbiamo fatto facilissimo abbiamo comprato due linguette due pinzette che è la 1 come i rasoi che vanno in castro e abbiamo rotto questa parte bianca che era quella da eliminare ok no scusate non era questa da eliminare è la parte del usb scusate ecco qua abbiamo comprato due linguette e abbiamo scattinato questa linguetta l'abbiamo comprata da un rivenditore del nostro no del nostro posto e ce l'abbiamo andata abbiamo colleta tutti i fili e sono andato bene poi l'abbiamo incastrata ora l'abbiamo riscaldata questa linguetta prima di mettere una parabola incastrata e se vi succede mettete un'altra linguetta però momentanea non fissata o qui dove c'è questa parte unita un pezzo di carta dentro e quello che ha testato poi abbiamo poi è andata dentro è andata dentro semplicemente invece di andare adesso funziona però adesso sto capovigendo prima andata così perché toccato poi un altro problema questo varicatore come vedete qui sono androli adesso non so se l'ho riuscito a vedere e vedete questa gomma questo è il simbolo dell'osb e lui quel tempo si era consumato ho fatto quindi abbiamo non abbiamo come sbutto il filo abbiamo con un incisore abbiamo riscaldato prima questa parte coprendo se vi succede dovete coprire questa parte con questa parte di usb che poi va al telefono tu non ce l'abbiamo il telefono ok una me la bui un attimo adesso che ce l'abbiamo il telefono e comunque scusate la teca o e con un incisore che abbiamo fatto questo segno anche se non è perfetto eh è fatto un po' malandato però ci abbiamo fatto uno stampino appunto questo lavino appunto oppure come unico scapio bianco fate questo e poi poi incidete su ok ok amici stasera quindi vedete venuto il raconte se non ce la fate vedere è meglio ancora no lo sto pensando vedete però però se non ce la fate vedere arriva là quindi mi è assunto a blu ok allora blu vabbè il blu adesso ce ne vanno perchè ne è morito io voglio ripetere scelte e voi risentite questa bellissima canzone mentre si chiama il dito ciao